Musica 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 short 2 3 4 3 4 3 5 6 1 Qui è il commissario Auricchio? Qui è il commissario Auricchio, che facciamo? Non vale lo stronzo, sono il commissario Auricchio, di che commissariato sei? Ribadisco che sei uno stronzone, sei pure ricchione! Mi si muore che mi muordi se mi avevo la faccia da ebede! Questo mi stai dicendo a me! Balliamo! Balliamo! Ballaci tu, parlaci tu! Ma fuggirete! Ma fuggirete! E com'è che a te fuggire sempre tu, sapete non fuggire niente! E tagliate! Ehi! 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 Non puoi saparlo! Che c'è? Ah! Sciugurata! So maledetti! E Se io mi indacci divento fr adherence! Drowned was fight! Adesso mi ricordo! Mi hai fatto con la trombosisру, mi hai fatto con la trombosi, mi hai fatto con la trombosi e per la trombosi.. Già e già veniamo in bucala con la trombosi, rimanere un panna con una ch cases. Eh, non suona. Se l'ha rotto. Eh sì, se non suona vuol dire che è rotto, no? Eh, allora, se è rotto, bussa. Bussa! Come cavolo è che a te funziona sempre? Perché almeno non deve mai suonare niente! Se lo sto azzone, sei buon erigione! Perché, 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 perché? Sì, che è te! Non metto a palmo! Che c'è? Ah! Sei sempre in mezzo, come il giovedì, stai? Le guardate fino di sotto! Disgrazieti maledetti, inetti! Particino suono! Grazie per la visione!